E' Carmela Di Blasio, la garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del comune di Montesilvano, la prima in tutto l'Abruzzo. Ieri mattina l'assessore alla pubblica istruzione Maria Rosa Parlione ha ufficialmente presentato la professionista scelta con un avviso pubblico. Psicologa, psicoterapeuta, mediatrice familiare e conciliatrice, la Di Blasio ha un curriculum ricchissimo di esperienze a tutela dei minori. Alla presentazione hanno partecipato i dirigenti scolastici, alunni del Dascanio e della elementare Saline. Intanto io mi aspetto che questa figura abbia poco lavoro, perché vorrei dire che Montesilvano non avrà tanti casi di abbandono, maltrattamenti, bullismo e quant'altro, invece purtroppo impera in tutta Italia e non solo. Noi come comune ci siamo posti che cosa potevamo fare per arginare questi fenomeni che purtroppo dilagano. E devo dire che ci sono anche Montesilvano, perché l'anno scorso ho ricevuto una lettera di parecchi genitori che mi chiedevano aiuto. E da lì sono partita con l'idea di istituire questa figura, che è la prima in Abruzzo. Ce ne sono 17 in tante regioni, cioè a livello regionale, e penso sia la terza a livello nazionale. Il garante dell'infanzia non deve fare altro che essere un ponte di comunicazione tra quelli che sono i problemi che vengono riferiti al garante e chi dovrebbe attivarsi per cercare di tutelarli questi bambini. Questa è la figura del garante istituita dal comune di Montesilvano. È un personaggio che deve assolutamente conoscere quelli che sono i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, ma soprattutto quelli che sono i bisogni di questi bambini, ma soprattutto anche i doveri dei genitori e dell'ambiente che lo circonda.